San Pietro a Corte, la Pinacoteca, il Museo archeologico, il Castello Areichi, la Chiesa di San Giorgio, il Duomo di San Matteo, il Giardino della Minerva, il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana e Santa Maria de Lama. Sono i siti della città di Salerno che resteranno aperti nel giorno di Ferragosto. La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, diretta da Francesca Casule, in occasione delle festività di Ferragosto, ha organizzato con la partecipazione di comuni, provincia di Salerno, diocesi e associazioni del territorio, le aperture straordinarie di musei e aree archeologiche a Salerno ed Avellino. Stamani, nel corso di una conferenza stampa, la presentazione di tutti i dettagli dell'iniziativa, alla presenza dei funzionali della Soprintendenza Michele Faiella e Rosanna Romano, musei ed aree archeologiche tutti aperti gratuitamente, ai quali vanno ad aggiungersi diversi siti della provincia di Salerno. A Raito di Vietri sul Mare il museo della ceramica di Villa Guariglia, a Nocera Superiore il museo di Villa del Ruggero, a Minori la Villa Romana, a Laviano il castello, a Valva il parco di Villa D'Aiala ed ancora a Padula la Certosa e il museo della Lucane Occidentale, mentre a Mirabella e Clano di Avellino il parco archeologico Eclanum e sempre nell'Irpinia, ad Avella l'anfiteatro romano. A Salerno abbiamo diversi siti aperti, fra i quali quelli provinciali come la Pinacoteca, il museo archeologico provinciale, dei nostri sono aperti come al solito, San Pietro Accorte, un sito interessantissimo per la storia di Salerno a partire dal Medioevo ma anche dal periodo romano e la Scuola Medica Salernitana che chiaramente è aperta grazie alla collaborazione della Fondazione Scuola Medica che ha l'apertura almeno fino alle 2. Il nostro invece, San Pietro Accorte, è aperto dalle 9 alle 19 con orario continuato e così anche gli altri siti del comune e della provincia. Si ha l'occasione di visitare anche in costiera la Villa Romana, la Villa Romana di Minori, in provincia di Avellino è aperto il sito archeologico di Avella, in provincia di Avellino è aperto il castello, insomma diciamo che è a tutto campo l'apertura quindi chi si trova in questi luoghi anche solo per una passeggiata nella provincia di Avellino nei paesi oppure nella provincia di Salerno anche solo per una passeggiata di trekking che ha la possibilità di fermarsi anche nei luoghi storici per una visita particolare e simpatica. Cioè voglio dire ci sono persone che per fortuna il giorno di ferragosto anziché andare a mare perché notoriamente le spiagge sono affolladissime desiderano stare in città o nei luoghi appunto di provincia e fare qualcosa di interessante come quello di visitare i luoghi storici. La particolarità di quest'anno, dimenticavo prima di dirlo, è che ci sono anche i monumenti ecclesiastici aperti. Mi riferisco a Salerno, alla chiesa di San Giorgio, interessantissimo luogo di arte e di cultura e al Duomo che hanno organizzato, hanno aperto, hanno aderito a questa apertura straordinaria. Quindi diciamo che un ferragosto all'insegna anche della cultura e non soltanto del mare. Grazie. Grazie.